Tre giorni dedicate al mondo della pesca, della caccia, del soft air e di tanti altri sport. Si tratta della più grande manifestazione del sud Italia, il Nature Show, che si sta svolgendo a Foggia. C'è tempo ancora oggi e domani per un viaggio nel mondo dell'avventura e degli sport all'aria aperta, con nove padiglioni da visitare e con oltre 20 ettari in cui è possibile provare il tiro con l'arco, l'arrampicata. Ci sono poi linee di tiro ad aria compressa che permettono a tutti di avvicinarsi a queste discipline. Spazio anche per la cinofilia e per un'area dedicata alla fattoria didattica e all'equitazione. Insomma, una manifestazione per grandi e piccini e che ha avuto il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Foggia e della Camera di Commercio. Mi auguro che sia questa la prima di una lunga fila di manifestazioni, perché ritengo che ogni manifestazione, soprattutto questa, possa attirare gente sul territorio e possa far apprezzare non solo questa bella fiera, ma possa apprezzare le bellezze di Foggia. Quindi è un indotto che noi dobbiamo coltivare, curare, che troverà accoglienza nell'amministrazione comunale che ho l'onore e l'onore di rappresentare. Nell'area fiera ogni padiglione ospita le migliori aziende specializzate, offrendo ai visitatori un ricco ventaglio di offerte. Ad accogliere il pubblico c'è l'area con le maggiori società che producono armi. Una meravigliosa vetrina, la Regione ha concesso il patrocinio a questa fiera, che è la fiera non soltanto della caccia, ma anche della pesca, del tempo libero, insomma di alcune discipline sportive, che riescono a catalizzare qui nel territorio di Capitanata anche ingenti, copiosi flussi turistici, quindi come poter rimanere indifferenti rispetto a questa meravigliosa realtà. Il Natushow è alla sua terza edizione ed è stato organizzato dalla Varraso Eventi. Un lavoro che dura da diversi anni, più che mesi, perché arrivare a questo risultato insomma richiede un certo studio e sono circa dieci anni che lavoriamo al progetto e ormai questa è la terza edizione, per le prime due si è tenuta in Campania, quindi diciamo ormai si lavora un anno sull'altro per arrivare a un risultato definitivo come questo di oggi. I produttori che si vedono in questa fiera sono i produttori internazionali di armi, sistemi di puntamento, le federazioni nazionali, abbigliamento tecnico, accessori e attrezzature e sistemi anche per, diciamo sistemi elettronici che ormai aiutano tantissimi cacciatori con i loro cani e ritrovare i cani e ritrovare anche diciamo le loro prede. Oltre alla caccia e alla pesca però è una fiera che si affaccia un po' a tutte le attività all'aria aperta.